I gruppi consigliari di Arco Futura e Arco per un Comune Virtuoso hanno voluto approfondire la tematica della variante 15 al PRG comunale, attraverso un corposo documento che hanno consegnato nella serata di ieri al Sindaco Betta. Sono molti i temi affrontati nella ricerca, offrendo valutazioni e proposte, con una serie di spunti legati all'urbanizzazione e alla perequazione, l'accessione al Comune di terreni per opere pubbliche in cambio di edificabilità. Tra le proposte indirizzate alla Giunta, anche quella di una nuova strada parallela alla passerella ciclabile dell'oratorio e che colleghi Via della Cinta con la rotatoria di Caneve, dove i consiglieri di opposizione firmatari del documento si dicono nettamente contrari al senso unico su Via della Cinta nell'ambito del PUM. Si parla inoltre di AMSA e di tutte le aree di sua competenza, nonché di tutte le strutture abbandonate come l'ex oratorio, il macello, la centralina di Pravi, il bersaglio, Villa Elena, gli ex ospedali qui si sana, Le Palme, Villa Angerer e l'ex casa Bresciani, solo per citarne alcuni. Un testo, quello scritto dai consiglieri Ravagne e Todeschi, che dicono essere il frutto di confronto con amici, simpatizzanti che hanno a cuore il futuro della città e liberi da condizionamenti. Ieri al Sindaco Betta alle ore 18.30 abbiamo consegnato un documento mio e della consigliera Bruna Todeschi del gruppo Arco Futura, con il quale abbiamo voluto fare una proposta urbanistica su quello che è il documento della variante 15. Abbiamo voluto portare questo documento nell'ottica di non andare allo scontro o al muro contro muro con la pubblica amministrazione, ma di poter essere propositivi. Per poter però nel contempo governare anche quello che è il nostro territorio, nella prospettiva e nella ricerca di quelle che sono le effettive esigenze pubbliche, prima che private, nella costruzione della prossima variante, che in ogni caso dalla nostra posizione all'opposizione monitoreremo con attenzione. Due sono le idee principali che ci connotano. Nel conscambio che si fa con i privati, nelle operazioni perequative, invece di consegnare la pubblica amministrazione del suolo, noi diciamo di consegnare quelli che potrebbero essere i volumi di cui il Comune di Arco è in possesso e non solo il Comune di Arco, anche la provincia autonoma di Trento. In secondo luogo abbiamo posto particolare attenzione su tutti quanti quelli che sono gli istituti religiosi presenti sul territorio, i quali probabilmente a breve saranno in dismissione. Di fatto alcuni, sappiamo già, hanno fatto le loro domande. Tali enormi volumi che sono presenti sul territorio potranno costituire un domani un importante patrimonio edificatorio, quando nel 2020 con la nuova legge provinciale sarà proibito costruire e quindi questi volumi stessi potranno essere importanti per poter edificare e non andare a consumare del nuovo suolo. Una proposta molto semplice, faccio un'ipotesi. Noi abbiamo analizzato non solo quella che potrebbe essere l'operazione dell'hotel Arco, ma abbiamo preso in mano tutta quanta la fascia arginale presente sul Sarca per poterla sviluppare in un certo determinato modo. E quindi, in concambio a quelli che sono gli imprenditori che rinunciano al suolo, invece di potergli dare dei volumi da realizzare a loro, gli si potrebbe cedere l'ex macello e l'oratorio, che sono lì fermi da 30 anni e dei quali sembra tuttora non si abbia un'idea chiara di cosa farne. O meglio, ci sono, ma mancano i soldi. Avete fatto delle proposte anche per quello che riguarda l'aspetto della viabilità del centro di Arco? Sì, certamente abbiamo fatto delle proposte, perché è sulla viabilità e sulla realizzazione di nuove piste ciclabili che portiamo avanti la nostra proposta. Siamo sicuri che sia la ZTL, che è un eventuale senso unico su via della Cinta, rimangono dei veri e propri pagliativi per poter risolvere quello che è il problema del traffico. La soluzione che noi poniamo è la realizzazione di un nuovo ponte che possa collegare il centro di Arco e solo con essa effettivamente si può arrivare a quella che potrebbe anche al limite essere una effettiva chiusura corretta della zona di via San Pietro, via Marconi e via Garberie, ma solo attraverso questo collegamento con l'area di Canave e non prima.